Stavo lavorando e mi sono fermato perché mi hanno portato questo video, guardiamolo insieme, guardiamolo. La regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, ha un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali, culturali, ma l'istituto... Uno scivolone che non è passato inosservato, quello di Pierfrancesco Maiorino, candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione Lombardia, il quale nel corso di un programma televisivo di un canale Lombardo ha asserito che la regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare e ha tante persone del territorio impegnate in progetti sociali e culturali. Un commento infelice è che il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, non ha ben digerito, schierandosi a spada tratta a difesa della Calabria e dei calabresi, affondando senza filtri quegli appellativi tanto denigratori quanto screditanti. Questo è proprio un cretino, affermò Chiuto in un video postato sui social, scarnendo quei pregiudizi antimeridionali che non dovrebbero più far parte delle propagande politiche. Non sono mancate le scuse del politico Lombardo, che il presidente della regione Calabria ha ben accettato, sottolineando però che non sa se sarà lo stesso per i calabresi che da anni contribuiscono allo sviluppo della Lombardia.